il gelato con gocce di cioccolato vediamo insieme come si prepara benvenuti al mio canale benvenuti a camellia oggi facciamo il gelato a langurie e una feta di anguria qua dentro e una banana la prendiamo e il cioccolato eliminiamo facciamo dei zettini dobbiamo fare ok mettiamo un coperchio iniziamo a frullare è pronto qui abbiamo il cioccolato e in queste forme guardate che meraviglia mettiamo il nostro gelato versiamo all'inizio cioccolato e Ora mettiamo il cioccolato. E mettiamo il coperchio. E adesso mettiamo un freezer per circa 3-4 minuti. Questa è la mia ricetta. Spero che ti mando un bacio e un abbraccio grande grande. E vediamo con la prossima ricetta. Ciao!